Il mio aereo è miseramente precipitato, il mio arbitraggio su Transat è andato a finire male, molto male. Per capire di cosa parlo, guardate prima questo video. Alla fine i termini dell'accordo sono stati rinegoziati e il prezzo di acquisto è passato da 18 dollari per azione a 5 dollari per azione. Il che mi fa il quanto a incavoleare. Certo, i contatti sono fatti per essere rotti, però se viene fatta un'offerta da 18 dollari e viene accettata dagli azionisti, com'è possibile che sia così facile modificarla, rinegoziarla da 18 dollari a 5 dollari? A mio parere è il quanto assurda questa cosa. Ma no dai, questa è tutta scena per il video, però alla fine questo simpatico scherzo mi è costato 500 euro. Eh sì, sono spiccioli, però sono il quanto incavoleato. Benvenuti su Investire con Gus, come avrete capito oggi vi parlo di tre azioni, una è fatta, ce ne restano altre due. Quindi in questo momento di transizione rilassatevi, sedetevi comodi e mettete un bel mi piace a questo video, così da far gongolare l'algoritmo di YouTube. E ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale. E adesso passiamo all'azione numero 2. In realtà forse ve ne ho già parlato in un altro video degli sviluppi di questo arbitraggio, e parlo ovviamente dell'arbitraggio su Craft Brewers, di cui vi ho parlato in questo video, se non sapete di cosa parlo andatevelo a vedere. Questo è andato a buon fine, ho guadagnato un onesto 10%, non male, niente di incredibile, però per niente male. Adesso andremo al PC e vi parlerò della terza azione, anche di questa vi ho già parlato in questo video, e ovviamente sto parlando di Biogen. Avevo iniziato a preparare questo video prima che uscissero i risultati del trimestre di Biogen, e il tema di cui vi avrei dovuto parlare sarebbe stato molto diverso da quello di cui invece vi parlerò. Inizialmente vi parlerò di quello che sarebbe stato il tema principale di questo video, ma alla fine questo video si concentrerà più che altro sul Q3, che è stato veramente significativo. E ovviamente vi parlerò anche di quello che è successo negli scorsi giorni, cioè della riunione dell'Advisory Committee che si è espressa a sfavore dell'approvazione di Aducanumab da parte delle AFDA. Questo video sarà un po' strano, perché l'ho preparato in tre diverse timeline. Una parte è stata preparata prima che uscissero i risultati del Q3, una parte è stata registrata dopo i risultati del Q3, ma prima del meeting dell'Advisory Committee, e la parte finale è stata registrata dopo il meeting dell'Advisory Committee. Ho deciso di lasciare i pezzi che avevo registrato in precedenza, così da farvi vedere qual era la mia opinione prima che uscisse il risultato della votazione. La cosa di cui vi avrei dovuto parlare inizialmente è il fatto che Biogen ha una situazione debitoria veramente perfetta. L'azienda ha 3 miliardi e 580 milioni in cash, e ha debito a lungo termine per 7 miliardi e 834 milioni. Se consideriamo il fatto che l'azienda produce circa 6 miliardi di free cash flow all'anno, la situazione debitoria è veramente perfetta. La situazione debitoria di altre aziende del settore, invece, è completamente diversa da quella di Biogen. Prendiamo per esempio AbbVie. Questa ha 6 miliardi in disponibilità liquide, invece il debito a breve termine è 5 miliardi e 371 milioni, e il debito a lungo termine è 82 miliardi di dollari. Ma guardiamo un altro colosso farmaceutico, Bristol-Myers Squibb. Questa ha 21 miliardi in disponibilità liquide, invece il debito a breve è 4 miliardi e 954 milioni, e il debito a lungo termine è di 42 miliardi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che Biogen adesso è veramente in una situazione finanziaria perfetta, e che l'azienda potrebbe contrarre moltissimo debito in più rispetto a quello che ha adesso, e quindi potrebbe tranquillamente effettuare delle acquisizioni importanti. Nel caso in cui la sua pipeline, i prodotti che produce e vende, alla fine si rivelassero un flop e non avessero il successo che l'azienda si aspetta. In modo da migliorare i suoi risultati, se pensiamo al debito che hanno Bristol-Myers e AbbVie, questo vuol dire che Biogen potrebbe contrarre circa 40 miliardi di debito tranquillamente. E supponiamo che Biogen spendesse questi 40 miliardi per acquistare un'azienda che produce un utile netto anno di circa 2 miliardi, quindi un ritorno del 5% anno sul suo investimento, un ritorno abbastanza basso, basterebbe per aumentare del 50% gli utili attuali di Biogen. Perciò mai che vada, l'azienda potrebbe utilizzare questa strategia per migliorare la sua profittabilità. Le grosse acquisizioni sono una cosa molto comune nel mondo farmaceutico, nel mondo biotech. Biogen invece si sta mantenendo molto conservativa, però con l'arrivo del nuovo CFO l'azienda americana ha iniziato a muoversi. La prima mossa è stato l'acquisto dell'11% delle azioni denali. Per adesso questo acquisto sta rendendo abbastanza bene, ed è possibile che la scelta del nuovo CFO sia stata dettata dal fatto che quello precedente era un po' troppo conservativo. Infatti, come vi dicevo prima, se compariamo Biogen alle altre aziende del settore, questa risulta veramente poco, troppo poco indebitata. Il nuovo CFO invece dovrebbe essere un po' più aggressivo. Prima di arrivare in Biogen era il CFO di Icvia, un'azienda che si trova in una situazione molto simile ad AbbVie e Bristol Myers. L'azienda ha cash per 1,5 miliardi, ha debito a breve per 298 milioni e debito a lungo per 12 miliardi. Perciò penso che nei prossimi mesi potremo aspettarci qualche mossa molto aggressiva da parte di Biogen, ma sono solo mie speculazioni, quindi staremo a vedere. Adesso invece andiamo a fare un commento sui risultati del Q3. Questi sono stati veramente atroci, molto peggio di quello che mi sarei aspettato. Quando vi ho parlato di Biogen in questo video, vi ho mostrato quali potrebbero essere i casi peggiori che dovrebbe affrontare l'azienda. Ed effettivamente quei casi peggiori si stanno materializzando, anzi forse sono addirittura peggio di quelli che avevo supposto io. Il problema più grosso è Tecfidera. Infatti Mylan ha iniziato a vendere il farmaco generico, che costa più o meno il 90% in meno rispetto a quello che vende Biogen. Nel prossimo trimestre Biogen si aspetta un calo del 15%, e visto che quel farmaco costa così tanto meno, è molto probabile che le vendite di Tecfidera andranno molto vicine allo zero nei prossimi anni. Quindi una grossa perdita di ricavi e di utile. Nel loro complesso le vendite del Q3 sono state in calo del 6%. Invece l'utile netto è stato più o meno dimezzato, così come gli EPS. Però questo dimezzamento è un po' fittizio, perché l'azienda ha iscritto 601 milioni negli R&D del trimestre. Gli R&D sono i costi della ricerca e dello sviluppo. Questi 601 milioni sono riferiti all'acquisto di denali, quindi una spesa che non c'era stata nello stesso quarto dell'anno precedente. Poi c'è stata anche una perdita realizzata di 82 milioni su qualche investimento, che non c'era stata nel trimestre dell'anno precedente, e la tassazione in questo trimestre è stata del 25% contro il 12% nel Q3 del 2019. Quindi di fatto l'utile netto è stato più o meno uguale rispetto a quello dell'anno precedente, nonostante il calo dei ricavi. Quindi il Q3 di fatto è stato un buon trimestre. Quel che mi spaventa è la guidance per la fine dell'anno. Infatti l'azienda è passata ad avere un outlook per gli EPS di fine anno di 32 dollari per azione ad un outlook di 26 dollari per azione. Un calo veramente pazzesco. Soprattutto se consideriamo il fatto che fino ad oggi gli utili sono stati in linea, anzi addirittura in crescita rispetto all'anno precedente. Questo vuol dire che nel Q4, nel quarto trimestre, si aspettano di avere un considerabile peggioramento dei risultati. Anche questo è molto inquietante, il fatto che praticamente tutti i prodotti abbiano visto un calo dei ricavi. E l'azienda sta puntando molto su Vmerity. Pensa che questo sarà il loro nuovo blockbuster. Però per adesso è una gran schifezza, 15 milioni di ricavi. Una cosa molto positiva di questo trimestre è stato il fatto che l'azienda ha annunciato un nuovo buyback di 5 miliardi di dollari. Questo rappresenta il 13% della capitalizzazione di mercato totale di Biogen al momento. Questo è veramente un acquisto considerevole, molto ma molto importante. Però allo stesso tempo il fatto che l'azienda utilizzi tutto il suo cash per fare soltanto buyback è un po' preoccupante. Infatti durante la conference call un analista ha chiesto al management di Biogen perché non utilizzano quei soldi per fare nuovi investimenti o per magari fare qualche acquisizione. E il management nella risposta è stato un po' vago. Altra cosa a dir poco negativa è il fatto che il free cash flow è stato in calo del 31% rispetto all'anno precedente. Ecco questa domanda da parte di Mark Goodman è stata molto interessante. Ha chiesto al management state per perdere 3 miliardi di vendite da TechFidera. E sono curioso sul perché non stiate facendo qualche piano di ristrutturazione? Perché non stiate investendo? E perché non stiate cercando di ridurre i costi? E di nuovo un altro come vi dicevo prima con l'erosione delle vendite di TechFidera perché avete autorizzato un altro buyback invece di allocare il vostro capitale in una maniera diversa per cercare di far crescere i ricavi? Le risposte sono state tutte evasive ma praticamente l'azienda ha detto che sta investendo tutto su Aducanumab. si stanno preparando per un possibile lancio dopo l'approvazione del farmaco. L'azienda sta scommettendo veramente pesantemente su Aducanumab e se questo non dovesse andare bene sarebbero dolori perché l'azienda non è pronta a un rifiuto. Si stanno preparando solamente per un'accettazione del farmaco e se questo non dovesse essere accettato, approvato sarebbe veramente rovinoso vorrebbe dire che il management ha sbagliato tutto. So già cosa vi state tutti chiedendo ma quindi ho venduto le azioni? La risposta è sì ho venduto una grossa parte delle azioni che avevo però non ho completamente chiuso la mia posizione ho mantenuto una piccola parte perché credo che l'azienda sia ancora sottovalutata e che una possibile approvazione da Aducanumab potrebbe darle veramente un bel boost. Però vista la situazione il rischio è diventato veramente alto e Biogen non può essere una delle posizioni più grosse che ho in portafoglio quindi ho deciso di vendere una grossa porzione delle azioni che detenevo aiutato anche dal fatto che ho acquistato dei prezzi veramente bassissimi infatti le prime azioni che avevo comprato le avevo comprate intorno a 230-235 Staremo a vedere il 6 novembre si riunisce un advisory committee che darà la sua opinione sui risultati presentati da Biogen rispetto alle farmaco Aducanumab arriverà entro il 7 marzo ma potrebbe arrivare un po' prima Questa parte del video che avete appena visto l'ho registrata tutta prima che si riunisse l'advisory committee e prima che venissero rivelate le presunte opinioni superpositive dell'FDA che hanno spinto le azioni Biogen a salire del 40% in un giorno però poi questo venerdì l'advisory committee si è riunito e ha votato contro l'approvazione di Aducanumab venerdì il trading su Biogen è stato bloccato quindi non si potevano comprare o vendere azioni perciò la reazione arriverà tutta lunedì e sarà davvero pesante sarà molto forte è molto probabile che le azioni crolleranno in una maniera pazzesca quasi sicuramente bruceranno tutto il guadagno di giovedì e probabilmente bruceranno ancora di più perciò tenetevi forte perché ci sarà veramente un bello schianto 5 membri del panel hanno votato sì quando gli è stato chiesto se Aducanumab avesse effettivamente qualche effetto sul cervello mentre altri 6 hanno votato incerto praticamente ciò che è venuto fuori da questa riunione è il fatto che sia Aducanumab ha degli effetti però secondo questi esperti questi risultati non sono così consistenti così congruenti e così ripetibili e da quel che ho capito probabilmente loro vorrebbero che fossero effettuati altri test su Aducanumab per capire se effettivamente ha un'efficacia reale oppure no in ogni caso l'AFDA non è obbligata a seguire l'opinione di questi esperti l'AFDA prenderà una sua decisione che sicuramente sarà influenzata da questo voto ma che però non dipende da questo voto perciò non tutto è perduto l'AFDA potrebbe ancora provare Aducanumab una cosa molto interessante è il fatto che molte delle persone malate di Alzheimer che hanno provato il farmaco Aducanumab si sono dette molto positive hanno dichiarato che si sono accorti da subito degli effetti positivi di Aducanumab perciò questa potrebbe essere una cosa molto molto positiva sinceramente non ho idea di cosa potrebbe succedere alle azioni Biogen nei prossimi mesi però come vi avevo detto nel primo video che avevo fatto su Biogen il mio investimento non era spinto da una scommessa su Aducanumab il mio investimento era semplicemente basato sul fatto che l'azione è troppo sottovalutata e Aducanumab era soltanto un plus soltanto un regalino che Biogen avrebbe potuto farmi però come vi dicevo prima dopo questo pessimo Q3 la mia view è un po' cambiata nel senso che ho sicuramente abbassato i miei target e come vi dicevo ho anche ridotto il mio investimento perché non mi fido di avere una grossa somma investita in questa azienda però c'è anche da dire che l'ottima situazione finanziaria dell'azienda è veramente una cosa che promette bene che può fornire all'azienda delle grosse opportunità di investimento e il prezzo delle azioni al momento potrebbe essere troppo depresso perciò le incertezze sono veramente tante quindi c'è da stare veramente attentissimi c'è da dire che se questo investimento andrà a finire male saremo sicuramente in buona compagnia c'è investito Buffett c'è investito Reidalio e c'è investito persino James Simmons di Renaissance Technologies se tutti questi grandissimi investitori ci hanno investito forse qualcosa di buono c'è o forse semplicemente hanno fatto un errore perché sì anche i migliori sbagliano e in borsa sbagliare è sicuramente molto facile un giorno si può pensare di essere Dio di essere dei fenomeni e invece il giorno dopo ci si renderà conto di essere dei polli per questo video è tutto fatemi sapere cosa pensate di queste tre azioni nei commenti ditemi se avete preso una posizione se pensate di prenderla cosa pensate di questa azienda in generale se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao